Fatti di sangue, corruzione e imprenditoria deviata. Che volto hanno le mafie oggi? E quali sono le nuove gerarchie criminali che si muovono nell'ombra? Mafia Connection porta alla luce del giorno gli affari dei clan meno conosciuti e più feroci. Incontreremo boss e affiliati che per la prima volta si siedono davanti a una telecamera, la nostra telecamera, e parlano. Ascolteremo intercettazioni esclusive e vi porteremo nei territori dove le mafie hanno costruito tutto il loro potere. In questa puntata cominciamo dalla provincia di Napoli, la mia terra, dove lontano dai riflettori scoppiano le bombe e si contano i morti ammazzati. E' un momento in cui i Moccia reagiscono con il sangue e danno prova della loro potenza criminale. Ha una storia senza precedenti il clan Moccia. Per la prima volta in Italia una donna viene accusata di essere l'ispiratrice di vendette e ascese criminali. Non solo che mi hanno ammazzato un marito, mi hanno ammazzato un figlio di 28 anni. Mia madre ha il primato di essere stata la prima donna accusata di magico. Faide e omicidi sono state la regola d'ingaggio per diventare un clan di Camorra. Ma è con l'imprenditoria che la famiglia Moccia, da Napoli a Roma, è diventata leggenda del crimine. Luigi Moccia è riuscito ad accapararsi una fetta importante di attività di ristorazione di primaria importanza della capitale. Fino a un affare moderno e gigantesco che tiene insieme clan di Ndrangheta e di Camorra. Il petrolio. Credito che gli arrenditori da noi. L'accusa di Ndrangheta e Bettozzi è quella di avere favorito unicamente il clan Moccia. Due procure, quella di Napoli e quella di Roma, danno la caccia in Moccia. Sono davvero imprenditori con un passato ingombrante? O come sostiene l'accusa, non hanno mai smesso di essere i signori della Camorra? Una lunga storia di faide e vendette di Camorra vinte, ma anche di scalate imprenditoriali e di raffinate strategie difensive. Uno dei punti di forza del clan Moccia è l'ambiguità. I presunti capi, i fratelli Moccia, hanno già scontato decenni di carcere per mafia, ma non hanno ancora chiuso i conti con la giustizia. È ad Afragola, proprio dove sorge la stazione ferroviaria dell'alta velocità, che il clan Moccia ha il suo quartier generale. Da qui controllerebbe l'area nord della provincia partenopea. Casoria, Arzano, Caivano, Cardito, Crispano, Fratta Maggiore e Fratta Minore, con propaggini nell'intera provincia. Un territorio enorme dove, se dici Moccia, le risposte non sono tutte uguali. La famiglia Moccia, la gente, la famiglia, eppure ne parlavano bene, nel senso che dicevano che mantenivano la tranquillità. Lì è di questo, per esempio, è di questo. Noi stiamo raccontando la famiglia Moccia. Guarda, non c'è neanche di nominare certe selezioni. Il popolo ha paura. Posso? Prego. Io mi chiamo Luigi Moccia. A mia memoria è la prima volta che faccio l'intervista. La mia voce è qui, ma il mio volto, preferisco, non metterla. Io ho accettato la richiesta di sottopormi a questa intervista, perché da più parti, giornalisticamente, anche in tv, ci sono sempre una serie di notizie che riportano il nome della mia famiglia. sperando di dare un contributo di chiarezza a quelle che sono le reali colpi della mia famiglia passate e dare un contributo di verità. Luigi Moccia, classe 56, è il più grande dei fratelli Moccia. Ha scontato 25 anni di carcere per Camorra. Nel 2018 è tornato sotto processo. È ancora considerato la mente del clan. Volevo anche chiarire che io ad oggi non sono un uomo libero in quanto c'è un processo in corso che mi vede imputato per l'associazione ADELIN, 416 bis. O mi viene riconosciuta la mia innocenza o, malaguratamente, dovesse essere riconosciuta la mia colpevolezza, verrà all'estato. Colpo al cuore al presunto clan Moccia. Come cosa nostra anche il clan Moccia aveva una struttura piramidale. In discusso Bosso, Luigi Moccia catturato in una casa sui fori imperiali di fronte al Colosseo, la sorella Teresa, Filippo Iazzetta. L'origine dei Moccia risale a 40 anni fa. È tuttora una famiglia che fa registrare la propria operatività. Dunque parlare dei Moccia ad Afragola non è semplicissimo. Incude un certo timore. Ho cominciato ad indagare all'inizio degli anni 2000 sul clan Moccia. Le tesi difensive tendevano a documentare che il clan non si stesse più. Il clan Moccia è strutturato secondo un criterio piramidale. Alla base c'è questo gruppo dirigente che è costituito dalla famiglia Moccia. I fratelli Moccia e Iazzetta Filippo, il conige di Teresa Moccia. Il vincolo solidaristico che lega la famiglia Moccia, intesa come famiglia nucleare, è assimilabile forse ad un'organizzazione criminale tipo calabrese. La mia famiglia ha un'estazione, diciamo, borghese, e fortunatamente per le loro capacità, per le loro capacità, siamo stati sempre nel benessere. Io ricordo la nostra infanzia. All'epoca si era solito, si diceva, la villeggiatura. Noi andavamo in vacanza a giugno e tornavamo a settembre. Mio padre è un imprenditore, noto a tutti gli afragolesi dell'epoca, ovviamente, ma parecchi non ci sono più, perché parliamo che il mio papà è morto nel 1976. Gennaro Moccia, imprenditore e proprietario di terreni, ucciso nel 1976. All'epoca il reato di Camorra non esisteva ancora. Era stato denunciato per detenzione di armi, rissa e usura. I Moccia non nascono criminali, nascono imprenditori, il che li rendeva in qualche maniera molto credibili e molto carismatici. Su una città di Afragola, che era una città della provincia di Napoli, abbastanza già all'epoca turbolenta. Capitò che andò all'asta un moggio di terreno e mio padre era interessato all'asta. Si interessarono a quest'asta anche i fratelli Giuliano di Afragola, sarebbero Giuliani e Antonio Giuliano. Si fece l'asta e mio padre si aggiudicò il terreno. E un giorno venne a casa nostra un amico di mio padre. Gli esternava le sue preoccupazioni che questi qua, i Giuliano, volessero fare del male a mio padre. Fu lì che mio fratello Angelo, cioè Vincenzo, detto Angelo, ebbe quest'idea che purtroppo lo portò a fare un acquato a Luigi Giuliano in cui malaguratamente purtroppo successe che morì per un equivoco il maresciallo dei carabinieri Gerardo D'Arminio. E per quella cosa arrestarono me, mio fratello Angelo e mio fratello Vincenzo, tutti e tre. Mentre noi stavamo in carcere purtroppo successe poi l'irreparabile a noi. Ancora un morto nella faida fra due famiglie di Afragola, i Moccia e i Giuliano. Ci fu la morte di mio padre. Sarà indispensabile, ed è il momento in cui avviene lo scontro, che una soltanto delle famiglie prevalga. E a prevalere è sicuramente quella dei Moccia. Questo desiderio di vendetta, di venticare mio padre, ci ha portato poi anche a fare un certo percorso di vita. Vendicare Gennaro Moccia non significa solo eliminare chi ha ordinato la sua morte. Negli anni Ottanta, infatti, i Giuliano sono alleati con il boss Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova Camorra organizzata. Ai fratelli Moccia serve un esercito e lo trovano. Si alleano con Carmine Alfieri e Pasquale Galasso, con cui fondano la nuova famiglia. Scoppia così la prima guerra di Camorra. Si assistette ad uno scontro armato terribile, di dimensioni veramente terribili. Si contano forse più di mille morti. Un'alleanza costituita per difendersi da Cutolo si impossessava delle aree che erano precedentemente controllate dalla nuova Camorra organizzata. A uscire i vincitori dalla sanguinosa guerra di Camorra contro il boss Raffaele Cutolo, detto professore, sono proprio i fratelli Moccia, che da quel momento diventano indiscussi signori del crimine. Ed è proprio così che da figli della borghesia napoletana, Luigi, Antonio e Angelo si trasformano in giovani, ma ferocita morristi. Ricorda quanti omicidi ha commesso? Materialmente? Materialmente, come secultore materiale? Materialmente, non ricordo. E come mandante? Abbastanza. Abbastanza che significa? Una ventina di omicidi. Una ventina di omicidi? Si è alimentato questa cosa dei Moccia perché ci furono degli episodi, purtroppo, che ci hanno visti protagonisti o coprotagolisti molto eclatanti, perché per la prima volta a Napoli, in un tribunale, fu ammazzata una persona a seguito di una guardia. Stamane Antonio Moccia, a 14 anni, fra 15 giorni, ha ucciso Antonio Giuliano. A commettere questo omicidio fu mio fratello Antonio, che all'epoca aveva poco meno di 14 anni. L'episodio avvenne nel tribunale di Napoli durante lo svolgimento delle udienze. Fu una cosa che lasciò essere fatti. Quel momento segnò una svolta sulla spirale di violenza che si stava aprendo nella città. Mia madre venne accusata, arrestata, addirittura, per essere stata l'ispiratrice di questo fatto. Ecco il fatto come nasce poi tutta questa situazione, la vedova della Camorra. Anna Mazza, detta la vedova nera della Camorra. È la prima donna in Italia accusata di mafia e morta da incensurata. Abbiamo avuto numerosissimi collaboratori di giustizia. Nessuno ha mai voluto dirci una parola che comunque riguardasse Anna Mazza. Mi avevano mandato delle comunicazioni giudiziarie, mi avevano messo in carcere per l'associazione. Non vi dico. Dopo un anno di carcere mi hanno presciolto a Formula Piede in istruttoria. Mia madre ha avuto anche una serie di provvedimenti di divieti, fra cui ebbe un provvedimento di obbligo di soggiorno nel comune di Codognè, in Veneto. Chino salta la fuoco a Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo! Questa gente vuole la libertà della sua terra, non vuole la mafia. A Codognè continua la battaglia contro il soggiorno cautelativo al nord dei camorresti. Ci valgono nel nostro paese ancora leggi che valevano nel Medioevo. Questa è una classe politica al Medioevo. Anche io... Ma io voglio parlare con questa gente, perché io si soppato. Si presentano a sera sotto casa di mia madre, addirittura c'è stato del lancio di pietre, delle cose. Veneto! Veneto! Io non dispongo di armi, ho una macchina, se vedo qualcuno che viene a casa di mia madre a tirare le pietre, la posso pure buttare sotto la macchina, mi sembra il minimo. Non revocheranno il provvedimento di soggiorno obbligato alla camorrista. Li denuncio e li ritengo responsabili di tutto quello che mi potrà succedere. E il bossi mi mandò a dire proprio questo è l'estuale parola. Dice noi stiamo facendo questo affinché questa legge venga abolita, in quanto le persone, anche se hanno dei misfatti, delle cose, se ne stiano a casa loro. Voi non mi volete, ma io pure me ne voglio andare a casa mia. Stiamo vincendo! Il governo cambiò legge e mia madre ritornò quindi ad Afragola. La situazione di persecuzione da parte della procura di Napoli era reale, lampante. Volevano che noi diventassimo dei collaboratori di giustizia. Oscuri ed inquietanti legami con politici ed amministratori. Carmine Alfieri, dopo Galasso, si pente e collabora con i giudici. La situazione di Moccia all'epoca era già compromessa dalle dichiarazioni che avrebbero reso Galasso e Dalfieri, di cui Angelo Moccia ne è stato un fedele alleato. Di cosa dovrei prendere? Dovrei accusare delle persone. Non si può fare la mattina in malavitose, la sera si può fare il prete che va a predicare. E' una stagione cruciale quella del 1993. I pentiti sono una potente arma nelle mani dello Stato e il clan Moccia è costretto a difendersi dalle accuse incruciate di nemici e alleati. E' proprio in quel momento che dal carcere Angelo Moccia propone come strategia difensiva quella utilizzata dalle Brigate Rosse, con cui i Moccia hanno condiviso celle e avvocati. Si chiama dissociazione e con il pentitismo ha una sola cosa in comune, ottenere uno sconto di pena ed evitare l'ergastolo. Per il resto la differenza è netta. Il pentito deve raccontare tutto quello che sa sulla camorra, aiutando lo Stato nelle indagini. Il dissociato, invece, si limita a confessare i reati a lui contestati, senza dire nulla sugli altri imputati, a meno che non siano morti o pentiti. Capimmo che quella era un tentativo di fermare quella cascata di collaborazioni che stavamo avendo, che in qualche maniera aveva messo in crisi profonda tutte le gerarchie delle organizzazioni, i suoi metodi di lavoro e i suoi affari. Una raffinata iniziativa processuale per evitare la condanna dell'ergastolo. Mentre il collaboratore perde tutto, perde l'onore, perde la famiglia, perde il patrimonio e sarà un animale in fuga per il resto della sua vita, con la dissociazione il soggetto diventava, restava protagonista del suo status all'interno dell'organizzazione. Io mi chiamo Gennaro Pansuto, ho detto Genni Terremoto. Ho iniziato la mia carriera delinquenziale come rapinatore, per finire poi ai vertici e a capo di un clan. Nel 2008 ho intrapreso la mia collaborazione con lo Stato. Gennaro Pansuto, ex camorrista, è stato latitante in Inghilterra, poi è diventato un collaboratore di giustizia. Ex affiliato al clan Liciardi, alleati dei Moccia. Oggi è un uomo libero. Paradossalmente questa dissociazione del clan Moccia, la camorra in generale la prendono tutti come una cosa che in qualche modo non tocca i principi omertosi, che non tocca i principi di codici camorristi, eccetera eccetera. Se l'hanno fatto e Moccia significa che è una cosa strategica, strategica e basta. Tutta la malavita di Napoli vivono tutti una surditanza in merito a clan Moccia. Non me la sento in questa sede di parlare della dissociazione anche perché sia io che mio fratello stiamo affrontando ancora dei processi in cui questo è argomento di, diciamo, processuale. Se la strategia della dissociazione la prendeva altri clan, credimi, gli effetti erano disastrosi. Potevano essere anche ammazzati, attaccati subito. Posso solo dire, in merito alla dissociazione, cotizzavamo questo, una rinascita. Tagliare i ponti con una vita che uno comunque aveva commesso. Questa è perlomeno la nostra illusione. I Moccia hanno davvero chiuso i conti con la camorra? Tre morti in poche ore in campagna si torna a sparare. Una mattina arriviamo e troviamo 20 bottoli di pistola. Ho denunciato i Moccia e dopo hanno bruciato i camere. Purtiamo un incidente, per me è un incidente. Non riesci a chiamarlo a omicidio? No, assolutamente. E questa persona mi ha ammazzato a mio figlio. Gli auguro di non trovare mai felicità. Erano ricchi ancora prima di diventare criminali, hanno vinto una guerra di mafia e non sono mai diventati collaboratori di giustizia. È cresciuta così la fama dei Moccia. Una famiglia che si dichiara ormai da anni lontana dalla camorra, ma che ha ancora troppi conti aperti con la giustizia. Io non ho mai fatto un omicidio. C'era folla per andare nelle macchine a fare gli omicidi. Non c'era bisogno. E se fosse capitato l'occasione dovevo andare in macchina e ci sarei pure andati. Non è mai capitato e per mia fortuna, anche per un fatto di coscienza. È il 1993 quando i Moccia si dichiarano dissociati dalla camorra. Vincenzo, il killer del maresciallo d'Arminio, è stato ucciso. Antonio e Luigi entrano ed escono dal carcere. Angelo, invece, è detenuto per decine di omicidi e strage. Dissociarsi per Angelo Moccia significa uscire dalla camorra senza diventare un pentito. Per la magistratura, invece, la dissociazione è una scelta di omertà, una strategia per evitare l'ergastolo e mantenere intatto il potere del clan. La giustizia ha inteso non accogliere questa proposta dissociativa di Angelo Moccia. Rifiutammo la proposta dissociativa e, infatti, le indagini sui legami tra imprenditoria e camorra arrivarono molto in alto. Stanno al di sopra, ma stanno molto al di sopra. Se Moccia ti chiedono un piacere, tu ce lo fai. Mi capivano male da dove sta. Mafia, imprenditoria e politica. È il nuovo volto della camorra, quello che i pentiti svelano alla magistratura. Un'alleanza criminale che era nata sulle ceneri di una terribile tragedia. Il terremoto in Irpinia del 1980. Il terremoto distrugge interi centri abitati in Campania e in Basilicata. Nel tempo, poi, quando è nata la spartizione di soldi, dopo il terremoto, le cosiddette tangenti, diciamo, sui lavori di grossa entità, io ho gestito questi soldi in quella zona. È un affare miliardario la ricostruzione post-terremoto. Politici corrotti e camorristi pilotano appalti e si spartiscono le tangenti. Le ditte che vogliono lavorare devono versare una percentuale alle famiglie di riferimento, che ad Afragola e Casoria sono i Moccia. Un'occasione di rinascita per la Campania diventa quindi saccheggio di risorse pubbliche e scatena una guerra tra clan. Cadono a terra camorristi e vittime innocenti. I Moccia, invece, restano in piedi e diventano ancora più ricchi. Dopo la loro definitiva affermazione, non hanno avuto conflitti con altre organizzazioni antagoniste nelle loro aree. L'organizzazione ha mutato le forme, ha mutato i comportamenti, ma rimane salda e solida sul territorio. Secondo le indagini, il clan resta al comando della provincia napoletana. Oggi, con una galassia di affiliati, controllerebbe i territori dove ha costruito case, imprese e potere. Ma cosa significa controllare un territorio? A Rione e Salicelle noi abbiamo registrato svariati reati che vanno dall'omicidio alla rifiutazione, allo spaccio di stupefacenti, allo smercio di tabacchi lavorati esteri. Sul territorio, nel tempo, ci sono stati altri clan camorristici contigui, confederati, alla famiglia Moccia. I clan attecchiscono dove c'è un po' di degrado ambientale e anche un degrado sociale, dove manca il lavoro da sempre. Questo è un bacino di reclutamento della criminalità organizzata. Con qualsiasi persona che parlo, non dico mai che vengo dalle Salicelle perché c'ho vergogna. Ho trovato un lavoro al Vomero. Era un bel posto di lavoro. Era proprio un avvocato. Quando mi hanno detto da dove vieni, ho detto a Fragola nelle Salicelle. Hanno detto va bene, vi chiamiamo noi, ma non mi hanno più chiamati. Purtroppo il rio di Salicelle fa paura. Non avendo nemmeno lavoro, è normale che le persone si buttano a fare scippi, a fare rapine. Tempo fa hanno messo anche una bomba qui, nelle palazzine. Cioè, proprio di fronte a noi, non sappiamo perché. Non possiamo ballare, non ci possiamo difendere, non possiamo fare niente. Allora ognuno si fa i fatti suoi e meglio. Quindi nessuno di noi parla. Ma è normale così. Ordini esplosivi destinati ad essere usati per attentati a scopo estorsivo sono stati sequestrati dai carabinieri nella cantinola di un predilicato a Rione Salicelle, via Fragola. Non abbiamo gli elementi per dire chi, che cosa, perché fa determinate azioni, siano esse le bombe, sia venire ad esplodere 21 colpi a salve fuori a un bene comune, ma abbiamo la necessità di urlare che non è normale. Il comune di Fragola ha ben 80 beni confiscati a disposizione del suo patrimonio e la masseria Verraioli è l'unico bene confiscato che viene riutilizzato per scopi sociali. Qui combattiamo la camola. Qui fuori, a poca distanza dove ci troviamo, una mattina arriviamo e troviamo 20 bossoli di pistola. Quest'area fa gola ai clan, perché è un luogo centrale su cui si snodano arterie vitali che collegheranno la TAV, quindi su strada ferrata, ma anche nuovi svincoli autostradali come quello della Napoli-Bari. La presenza di Moccia è assolutamente avvertita. C'è chi definisce come un clan e c'è chi li definisce come degli imprenditori. Mi rivolgo ai commercianti, agli imprenditori e a tutti i cittadini di Fragola. Denunciate gli essorsori, ha destato scalpore questo manifesto a firma di Antonio Moccia. Noi arriviamo addirittura nel 2020, mio fratello, a mettere dei manifesti in Fragola ma perché i personaggi giravano a fare delle istruzioni e dicevano noi siamo il clan Moccia. Loro puntano sempre a pulire il loro cognome o comunque sia a depistare le indagini in merito al racket sulla loro famiglia. Metti il manifesto, denunciati, gli vieni a nome del clan Moccia e poi tu Moccia vai a fare l'istruzione. È come se il Papa dicesse voi uccidete quando vi offendono. Insomma, è il massimo della follia. Se Antonio Moccia, ma un rappresentante della famiglia Moccia vieni a darmi dei consigli di qualunque tipo a me personalmente o attraverso la stampa, io mi preoccupo. Un botto, un'esplosione fortissima ed è di nuovo angoscia da Fragola. Dicembre 2018, da Fragola inizia la stagione delle bombe. Possiamo affermare con assoluta certezza che è stata una tentata strage. Bombe che esplodono a danni di esercizi commerciali. Sembra che non si possa neanche dire che ci sia il racket. Ma si è capito che è successo? No. È un po' che sta avendo questo servizio. Come si è a Tefano e non ha fatto l'altro? È una bella bomba. Noi sei su Pato Palazzo. È una macchina, la macchina. E certo, non c'è nessuno. È normale. Non ci sono belle atti, come diciamo noi qua. L'organizzazione vede diversi componenti della famiglia Reclusi. E quindi sul territorio si espongono soggetti giovani. Il gioco forza si assiste ad una maniera disordinata di conduzione delle attività criminali. Anche quando noi abbiamo fatto questo passo indietro, se così vogliamo dire, che non abbiamo inteso più fare un certo tipo di vita, ovviamente l'Afragola, come nei Paesi di Mimini, si è continuato a delinquere. Alcuni anche artatamente continuavano a dire proprio palesemente clan Moccia. Altri bastava che dicevano gli amici di Afragola e nell'immaginario delle persone si identificava il clan Moccia. La macchina l'abbiamo costruita noi, però a un certo punto abbiamo posato le chiavi. Poi chi la guida, chi la porta, chi va avanti, è un problema loro. La famiglia Moccia si dichiara completamente estranea alle bombe che dal 2018 minacciano la sicurezza in città. Il fratello di Luigi Moccia, Antonio, ha perfino tappezzato Afragola di manifesti anti-racket. Gli inquirenti però considerano i fratelli Moccia ancora a capo del clan che porta il loro cognome e scavano per cercare le tracce di un loro legame con le azioni criminali delle cosiddette articolazioni territoriali. La manovalanza rumorosa ai piedi della piramide Moccia che finanzierebbe gli affiliati del clan rispondendo a un'unica regia. Le indagini hanno documentato che le articolazioni territoriali dispongono di una lista di tutti gli operatori commerciali ai quali andare a chiedere l'estorsione. È emerso peraltro che le organizzazioni criminali rivolgono il proprio interesse anche ai lavori edili, che loro chiamano fatiche. Guarda, faccio un esempio, facevi mettere un tuo affiliato sulla moto e si faceva tutta la zona per vedere se trovava muratori che stavano incominciando l'impalcatura per fare una ristrutturazione a un palazzo, no? Il lavoro che è 100.000 euro è il 5% di 100.000 euro, che è il lavoro di 500.000 euro è sempre il 5% comunque. Ma dove va tutte le zone di Napoli è così. Io l'intervista non la volevo fare perché siamo in pochi a denunciare di aziende e di lì, quindi io già così rischio. Mo mettono le bombe e tu così capisci che c'hanno qualcosa da dirti. L'ultima denuncia che ho fatto è stata per una cosa che è successa a un mio autista che tra l'altro è una persona di 60 anni che l'hanno battuta a sangue, hanno picchiato a sangue, sempre perché vogliono metterci a lavorare nell'azienda, quelli che dicono loro. Io ho denunciato i Moccia e altri clan e dopo hanno minacciato i miei operai e hanno bruciato i campi. Colpo al clan camorristico Moccia, da Fragola partivano gli ordini agli affiliati che minacciavano gli imprenditori della zona. Le indagini hanno dimostrato che, per quanto attiene l'estorsione, i proventi erano destinati anche al sossentamento degli affiliati detenuti, anche quelli di rango, quelli di cui è indubbia l'appartenenza al clan Moccia. L'episodio più grave che ci è capitato è stato in un cantiere che il geometra l'hanno sparato, non l'hanno preso, perché non abbiamo voluto comprare il carcere estruzzo che dicevano loro. Nella lettera c'era scritto di lasciar stare il cantiere che i soldi servivano per i detenuti. Se prima degli anni 2000 le attività venivano fatte in nome e per conto del clan Moccia, ora viene fatta in nome dei compagni di Fragola, è un sinonimo. Viene fatta in nome dei carcerati. La potenza dell'azione rimane la stessa, però è cambiata la strategia. Il clan Moccia sono io il primo a dire che è esistito. Probabilmente anche oggi esiste ancora un clan denominato Moccia. Il problema è che io non ne faccio parte, nei miei familiari ne facciamo parte. Come ho detto, è come se fosse un brand famoso. Il come il clan Moccia o negli altri comuni dove c'è un'influenza di clan satellite riconducibile a Moccia, non può non incrociare le armi con queste organizzazioni e sodalizzi criminali. Chi non lo fa è perché sceglie di non farlo. Il clan Moccia è un brand perché ci sono tanti clan satellite che hanno praticamente raccolto, guardare con interesse al sistema di Moccia. È una piramide che ha una barriera protettiva, ha degli anticorpi del clan. Il capo clan o un membro della famiglia non incontrerà mai il referente di uno di questi clan satellite, perché saranno sempre degli intermediari. Tanti clan satellite hanno una struttura più improvvisata e continuano le attività tradizionali, assorsioni, traffico di droga, creando anche e attirandosi l'attenzione. È una camorra spietata e imprevedibile quella dei clan satellite. Decine di gruppi criminali che terrorizzano gli imprenditori con le bombe, minacciano i commercianti con le bot e governano le piazze di spaccio in periferia. Lì dove i cani sciolti della malavita decidono ancora chi vive e chi muore. È questa persona che ha ammazzato mio figlio. Io gli auguro di non trovare mai felicità, che deve cercare la pace, ma non la deve mai trovare. Antimo Giarnieri, ucciso a vent'anni a Casoria l'8 luglio del 2020. Questa è una ferita d'arma da fuoco di una 7,65. Eravamo io, Antimo, i tre ragazzi un po' più distanti. Quando mio nipote è arrivato qua e ha detto che hanno sparato Antimo, io come ero entrato in un altro mondo. Io lo chiamavo? Antimo, svegliati? Ma non si è svegliato. Ucciso come un boss, scrissero sui giornali. Te la poni pure tu la domanda, fa che qualcosa mi è sfuggito, qualcosa ha nascosto, perché poi giustamente i ragazzi si lasciano trasportare. Ma io lo conoscevo bene mio figlio, sapevo che ero mio figlio. Gli piaceva vestire per bene, però dei soldi non se ne fregavano. i miei amici sono problemi. Veniva dietro di me e diceva fammi sentire il tuo profumo, perché diceva che io avevo un profumo che lui non lo sentiva da nessuna parte. Quando andavo nella caserma dei Carabinieri, io facevo perché mio figlio è stato ucciso. Un giorno il capitano mi disse siediti. Non era Antimo che volevano, era un'altra persona. Antimo non ha mai fatto niente. A Guato a Casori, Antimo Giarnieri ucciso per errore a 19 anni, arrestate due persone. A finire in manette Ciro Sannino e Tommaso Russo, elemento congiunto del clan Moccia. La sfortuna di Antimo è che si è trovato nel posto sbagliato, al momento di sbagliato. L'indagine è venuta fuori che cercava un altro ragazzo che voleva avrissi una piazza di spaccio. Antimo! 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 Finalmente si è rotto questo muro di omertà. Infatti c'è un testimone oculare che l'ha visto in faccia all'assassino di mio fratello e ha testimoniato. È in pericolo. È stato isolato dalla famiglia e in protezione attualmente. Antimo! 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 Non si può morire a 18 anni per uno scambio di persone L'hanno definito un errore Questi non sono errori, gli errori si rimediano La morte di mio fratello non c'è rimedio Quando guardo Napoli mi sento come un bambino Che ha fatto qualcosa di male verso i propri genitori L'ultima guerra che ho fatto mi sembra 20-30 morti Per me è inevitabile pensare ai figli che ho rimasto senza fare L'omicidio che è ancora ad oggi di tormenta L'omicidio che in qualche modo l'ho trattato come un sacco di patate Questo mio amico che sapeva che io sparavo tanto Mi disse Gennaro guarda che dove stiamo andando a fare sta guado C'è tante persone e poi c'è una strada principale Che è molto controllata dalla polizia Cerca di fare una cosa pulita Io questa cosa l'ho presa un pochino offensiva E niente, gli dissi, senta allora facciamo una cosa Ci vogliamo giocare un qualcosa, un Rolex, una macchina Che tu mi ammazzi con un colpo solo Quella scommessa che secondo me mi pesa di più Qua vedete c'è la volontà dei cittadini onesti a cambiare capitolo Le manifestazioni le abbiamo fatte in piazza perché noi non ci nascondiamo Noi il nome lo facciamo, il nome dei Moccia lo facciamo Perché uno dei tabù era proprio questo Non parlare, cioè non fare il nome di questa famiglia Noi siamo arrivati al punto di denunciare l'associazione libera per diffamazione Alcuni adepti di questa associazione Sicuramente persone mal informate Non facevano altro che calugnare mia madre I ragazzi del presidio sono stati avvicinati e minacciati Qualcuno ha avuto pure qualche schiaffone Mia madre che cosa fece? Si rivolse all'avvocatessa per dire Fammi la cortesia, avvocato, chiama quelli di Libera Non come intimidazione camorristica Ma andate che la smettessero di dire queste cose Noi continuiamo a parlare Noi continuiamo a dire nomi e cognomi Senza averne paura C'è chi non parla perché ha paura delle querele? Poliziotti, carabinieri, magistrati, querelano tutti Addirittura sono stato querelato da Antonio Moccia Antonio Moccia, classe 64 Ha scontato 4 anni di carcere per mafia Nel 2021 è stato arrestato per autoriciclaggio e associazione mafiosa E' ancora sotto processo La denuncia di Antonio Moccia si riferisce ad un episodio Ad un'attività di polizia giudiziaria Che svolgimmo su un terreno Questo terreno ci risultava un terreno agricolo Era stato trasformato in un'area industriale Dove c'erano decine di mezzi Però semilmente erano quelli utilizzati per lavori di movimento terra Di alcune aziende che sembrerebbe Avevano pure lavorato per il vicino cantiere della Tapp Io arrivo su quel terreno Incontro un altro dipendente di una delle ditte Io gli chiedo ma chi è il proprietario? Perché mi risultava una donna E lui mi dice ma voi non conoscete il proprietario? Ma non è una cosa di Roma? No, Roma ci ha chiesto di fare, certo a me Con grande sorpresa sul posto poi arrivò Antonio Moccia Carabinieri, polizia, guardia le finanze Mangavamo noi No, noi già ci stiva Ci mancavamo solo Roma Ci passavamo che fosse Lui ci parlava di sanatorie Di attività che aveva in atto Parlava come parla il titolare di un bene Sperando che fanno in situazione E studiare 5 muri Potremmo avere la concessione sanatoria Io gli dissi giuti perché lei Ci dà tutta la sua spiegazione Se non è il titolare del bene Vuol dire che lei Secondo una mia opinione È il titolare di fatto Quindi io il sequestro lo faccio a nome suo Visto che lei è così interessata a questo terreno Su quel terreno c'è ancora adesso un processo in corso di circolgimento Quindi non dirò altro Ritengo che effettivamente gli interessi erano intorno alla struttura TAB Non in modo focalizzato proprio sulla TAB stessa I processi sono tuttora in corso Ma la sfida investigativa è una sola Colpire la camorra che vuole mettere le mani Sui soldi che girano attorno all'alta velocità Appalti, gestione dei parcheggi, alberghi e centri commerciali Un affare da 100 milioni di euro Che nel 2017 L'anno in cui è stata inaugurata la stazione TAB Avrebbe già fatto saltare gli equilibri tra i clan Tre morti in poche ore in campagna si torna a sparare Il remigio Shirra è stato ucciso a colpi di pistola Mentre era a bordo di un'auto L'omicidio è avvenuto da Fragola Dove giovedì scorso venne ucciso Nalvatore Caputo Per gli inquiretti, il cassiere del clan Moccia L'ipotesi è che sia scoppiata una faida Tra il clan Cennamo e il clan Moccia Un tempo alleati e oggi rivali Omicidi irrisolti per ora Quello più controverso però è l'agguato a Salvatore Caputo Considerato dagli inquirenti un senatore dei Moccia Un ruolo che nella piramide della famiglia Rappresenta la cerniera tra i capi e gli affiliati sul territorio La parola senatore più volte la vedo Menzionata in molti articoli giornalistici Senatore, per me io conosco solo il senatore Quello della Repubblica Italiana Parente della famiglia Moccia Poi finisce con il parente inizia associato alla famiglia Moccia Pluriprugificato della famiglia Moccia Questi i cappotti li hanno visti da mio padre Io lo chiamo un incidente Per me è un incidente Non riesci a chiamarlo omicidio? No, assolutamente mai Noi siamo vissuti nelle armi Noi siamo vissuti che arriva la squadra mobile e ci mette la casa sotto e sopra Siamo vissuti nella normalità Solo mio padre veniva descritto come una persona vicino alla famiglia Moccia Salvatore Caputo, produttore agricolo e imprenditore nel settore dei petroli Sfuggì a un misterioso agguato e in passato è stato consigliere comunale ad Afragola Accusato e poi assolto dal reato di mafia Nel 1987 mio padre è stato inquisito in un'associazione a delinguere con la signora Anna Mazza Viene scagionato per il fatto che non successe Aveva funzioni pubbliche, era un politico Prendeva voti, sapeva farcela Era un uomo che gli dava fastidio E la politica ha distrutto in un'altra E allora la magistratura deve fare la sua parte Deve vagliare qualsiasi atto L'imprenditore Caputo è morto da incensurato Sulla sua testa pendeva una richiesta di arresto della procura di Napoli E i pentiti lo hanno sempre indicato come un elemento di spicco del clan Moccia Uno su tutti Il collaboratore Salvatore Scaffuto Che nel 2015, due anni prima dell'omicidio Caputo Racconta agli inquirenti Caputo Salvatore, come esponente di vertice del clan Moccia, dice Scaffuto Ha messo le mani in tantissimi settori economici Quello del carburante, ma anche quello della raccolta rifiuti Negli ultimi anni, Moccia hanno percepito che li stesse fregando economicamente Per cui sono cominciate le frizioni L'ultima manifestazione di questa discordia È stata la richiesta di Antonio Moccia Fatta a me circa tre mesi fa di uccidere Salvatore Caputo Che era diventato per loro un problema E' un pensiero del pentitore Perché mio padre non aveva questi rapporti di vendita reale con il clan Moccia Perché mio padre era uno che non voleva nemmeno fare con noi figli Io e i miei fratelli siamo tutti i venditori Siamo nel settore petrolifullo Quasi tutti e tre Dopo la morte, un incidente di mio padre Diciamo, ci freno un po' di andare avanti Come ci vede la legge? I figli del senatore Ma il mio padre è normale che si Ma mica era l'uomo che prendeva le decisioni Non vale le decisioni Se ho il coraggio di venire da lei Di essere intervistato da lei Perché non ho paura di niente Perché morto? Quali sono state le cause che hanno portato alla morte di mio padre? Così crudemente Quell'incidente Perché è successo? E noi la magistratura chiediamo la verità Omicidi, estorsioni, bombe Chi sono veramente i Moccia? Criminali in pensione? O camorristi abili a muoversi nell'ombra? E fino a dove arriva il loro potere? A Roma sequestrati quattordici ristoranti Nelle mani del piano dei Moccia Per Roma si fanno affari E' più facile procedere al reimpiego dei proventi indeciti Il vicino è un romano molto Il vicino vogliamo del corretto bianco Io ho collegato l'attività di arresto di Moccia Luigi Il romano pensò di me Il romano è un faglio Il romano è un faglio Questi ammazzano Cioè, questi tolgono i locali Ti tolgono la famiglia e tolgono tutto Nella provincia nord di Napoli Gli affiliati del clan Moccia controllano il territorio Con le estorsioni e le bombe La famiglia Moccia si dice estranea ai fatti di camorra Ma per l'accusa non è così Oggi i Mocci infatti avrebbero messo in piedi una struttura piramidale Dove gli affiliati fanno il lavoro sporco E i capi investono e riciclano denaro nell'imprenditoria In Campania, ma non solo C'è un momento in cui i fratelli Moccia arrivano a Roma Ed è ragionevole ipotizzare che la motivazione di questo spostamento sia collegata a un più agevole reinvestimento dei proventi illeciti del clan Nel corso dell'attività investigativa è emerso che il primo ad arrivare a Roma è Moccia Luigi Luigi Moccia classe 56 dopo 25 anni di carcere nel 2010 si è trasferito a Roma E' ancora sotto processo e viene considerato uno dei capi del clan Moccia La terz'ultima detenzione che ho fatto sono uscito a dicembre del 2009 Con la ferma intenzione di andare via da Afragola Perché dire ad Afragola nella provincia di Napoli Dire Moccia era sinonimo di camorra Allora io per evitare che questi nostri errori passati Medi, mio fratello e cose Si diperquetessero anche se i nostri figli Dice noi dobbiamo dare uno stacco, dobbiamo andare via E pertanto scelsi Roma Roma rappresenta un po' un crocevia delle varie organizzazioni criminali Su Roma si fanno affari Su Roma vi sono le unità locali Vi sono i responsabili che vengono su Roma per fare economia Per creare ricchezza Perché soprattutto poi su una città come Roma Chiaramente è più facile procedere anche il riempiego dei proventi illeciti Qualche inquirente so che ha detto che io ero andato via da Afragola Perché se rimaniamo ad Afragola Se faccio un'attività mi sequestrano qui Ma sarei stato uno stupido, uno stolto A pensare che io me ne andavo a Roma e facevo l'affare Non so, di comprare un palazzo ai Parioli Solo perché stavo a Roma ai Parioli non mi veniva sequestrati Luigi Moccia viene tratteggiato come un soggetto camaleontico Non un criminale comune Ma un criminale con una mente eccelsa Studiava le leggi Cercava di poi andare a comprendere E cercare di capire se vi erano in alcune leggi Dei gangli o comunque dei passaggi bui Nei quali eventualmente potersi inserire Aveva una marcia in più All'epoca, fra redditi e altro Mi chiede mia moglie per cercare Oltre 16 mila euro al mese Tanto è bene che io a Roma ho lavorato Pidiai un fitto d'azienda, una gelateria Poi dietro al Viminale Dopodiché trovai un albergo a Trastevere Che fittai e gestii Ipotizzavo di essere controllato Intercettato Però la cosa non mi preoccupava Mi illudevo che nel momento in cui mi avrebbero controllato Si rendevano conti Ma questo sta lavorando Punto Purtroppo non è stato così Le mani della camorra su frutta e mozzarella Sigilia al patrimonio di dimensioni impressionanti del capoclan Luigi Mocio È il 2016 quando Luigi Mocio viene arrestato Gli inquirenti lo accusano di aver intestato a suo figlio Una società nata per vendere le mozzarella nei ristoranti romani E che poi si è allargata anche al mercato della frutta La società è nata nel 2013 Nel 2016 quando poi ci fu sequestrata questa società La fatturava un milione L'autorità giudiziaria pensò che era una mia attività Che avevo fatto con l'interposizione fittizia di beni Tra l'altro a mio figlio che era una cosa ridicola Per Luigi Mocio è un'accusa ridicola Per gli inquirenti invece Intestare la società a suo figlio Era il tentativo di aggirare una legge antimafia Che impone dei limiti all'arricchimento di soggetti ritenuti pericolosi Un modo insomma per ingannare la giustizia Io ho coordinato l'attività di arresto di Mocio Luigi Nel corso di indagini emergeva come Mocio Luigi È riuscito ad accapararsi una fetta importante Delle forniture nei confronti di attività di ristorazione Di primaria importanza della capitale All'arresto di Luigi Mocio gli inquirenti ci arrivano indagando sui rapporti di un altro imprenditore Si chiama Gennaro Mocio detto Roberto Anche lui di origini napoletane Ma che non ha legami di parentela con la famiglia di Luigi È proprietario però di una grossa società La Mocio Fruit Che ha un deposito di stoccaggio merci E rifornisce alcuni supermercati della capitale Un partner perfetto per fare affari su Roma In alcuni colloqui intrattenuti dal Mocio Roberto Emergeva come lui si vantava di questo tipo di rapporto con Mocio Luigi Grazie a Mocio Roberto, Mocio Luigi è riuscito ad espandere i propri interessi nel settore del commercio Non solo di prodotti a tiro caseari ma anche ortofrutticoli Nonché ad avere proiezioni anche sul mercato ortofrutticolo spagnolo E da parlare proprio col capo di queste grandi caratterie d'azienda Questo sapeva che andava là per le forniture, no? La mozzarella Lui fa la piacere mocio a Luigi Ma lei è mocio a fruit? Se no, non capito come A Napoli è mocio a camurra Ma Roma è mocio a fruit, capito come? Acquisendo questi clienti che erano tutti ristoratori Incominciarono a dire, dice, ma voi dove state col deposito? Quando si parlava, stiamo lì su Morcia Fruit Guardate che Morcia Fruit a Roma era molto conosciuto Era un nome molto conosciuto nell'ambito della frutta Ecco, dice, ma perché non ci portate la frutta? E' nato da qualche ristoratore questa cosa In primo grado, con il rito abbreviato, fu una nata a quattro anni e otto mesi mi pare Dopo di che ho fatto l'appello Sono uscito assolto Perché il fatto non costituisce reato Quindi il giudice addirittura diede l'autorizzazione al mio figlio e al socio di continuare l'attività Però intanto per accertare questa cosa Che secondo me si accertava In dieci minuti, seduti fuori a un bar Mi hanno fatto fare un anno di carcere e quant'altro Il Tribunale di Roma assolve dalle accuse Luigi Moccia e quelli che venivano considerati i suoi complici Cioè il figlio e l'imprenditore Gennaro Moccia, detto Roberto L'indagine Moccia Fruit però non cade completamente nel vuoto E anzi apre la strada a un nuovo capitolo giudiziario Proprio sugli investimenti dei Moccia nella capitale L'attività investigativa è stata complessa Tengo conto che quando si attivano le intercettazioni Tu hai 10 minuti orologio per installare l'ambientale auricolare Inoltre le intercettazioni Non basta ascoltarle anche perché poi vanno incrociate con le attività di bidinamento Vanno incrociate con le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Quindi ogni parola va pesata, va contestualizzata L'immediatezza non ti dice nulla Però man mano che si evolve l'attività investigativa Ti dà una chiave di lettura di quello che è avvenuto e di quello che potrebbe avvenire E' l'inversa intenzione di Moccia Luigi di effettuare investimenti non solo per se stesso Ma anche per i congiunti, per i figli di un fratello che all'epoca era detenuto Moccia angelo detto insuccio Angelo Moccia detto insuccio Ha scontato 23 anni per mafia e omicidi Nel 2016 va a vivere a Roma Dopo 4 anni viene arrestato per reati di mafia Eccolo Angelo Moccia mentre nel 2017 accompagna la figlia all'altare Papiglion nero, orologio d'oro e occhiali da sole modello film poliziesco anni 80 E' il più violento dei fratelli Ha partecipato a stragi e guerre Ha confessato più di 20 omicidi E si è dichiarato dissociato dalla camorra Secondo l'accusa però Angelo Moccia non ha mai smesso di essere un camorrista Neanche negli anni in cui ha vissuto a Roma Io ho fatto una vita molto monotona signor Presidente a Roma Per me era una bellissima vita Perché per la prima volta io ero un uomo libero Dopo tanti anni di carcere, di rapidanza e di grandi problemi L'attenzione investigativa sul Moccia Angelo e sui familiari Ha inizio dall'osservazione di un locale nei pressi del Pantheon Da qui è venuto fuori che ci sono una serie di imprenditori collegati al Moccia Che sono intestatari di attività commerciali Che però di fatto sono riconducibili alla famiglia Moccia A Roma sono stati sequestrati 14 ristoranti Finiti nelle mani del clan dei Moccia I boss Luigi ed Angelo Moccia Che investivano in immobili e ristoranti Ristoranti inaugurati e poi falliti Oppure locali di successo in centro a Roma Rilevati a suon di contanti Il patrimonio che abbiamo sequestrato Nell'ambito di questa attività investigativa Monta circa 3 milioni di euro Auto di lusso e un immobile nel quartiere Parioli di Roma A Roma Angelo Moccia uno stile di vita sobrio È una rete di prestanome che gli consente di agire nell'ombra L'indagine che nel 2020 porta al suo arresto Nasce tre anni prima Quando all'imprenditore Francesco Varsi Vengono sequestrati 14 ristoranti per evasione fiscale Una truffa allo Stato da 9 milioni di euro Quello che scopriranno dopo gli investigatori È che Varsi non agiva da solo Varsi, Franco Varsi Diciamo è quello alle quali hanno sequestrato Ma dietro Franco ci stanno i loro Mocci Cos'è che Angelo c'è un esercio all'esposizione? La traccia investigativa che porta ad Angelo Moccia È una presunta vittima di estorsione L'imprenditore Vittorio Domenici Domenici ottiene in gestione 4 dei ristoranti sequestrati Ma anziché limitarsi a pagare l'affitto al Tribunale di Roma Come prevede la legge Versa a Francesco Varsi e Angelo Moccia Una tassa non prevista 300 mila euro Nel momento in cui un imprenditore Riesce a ottenere la gestione di un'attività Sottoposta a sequestro da parte del Tribunale Ovviamente per legge non deve corrispondere Denaro ad alcuno Eventuali richieste non possono che essere ricondotte A richieste estrusive Succede che Domenici è Secondo la tesi accusatoria È consapevole che per condurre questi ristoranti Deve corrispondere dei soldi Che devono arrivare alla famiglia Moccia E' una sigaretta Il problema è una pessima di mentalità Fidati Per loro hanno una parola sola Vabbè Il più certo non c'è qualcosa Io ti ho fatto messare E' un amico mio Sono pochissime le persone con le quali Mocciangelo si è accompagnato Uno di questi è Gargiulo Un imprenditore romano Che con Mocciangelo ha gestito alcune società Sempre riconducibili a lui Questi ti ammazzano Cioè Ti tolgono i locali Ti tolgono la famiglia Ti tolgono tutto Fino adesso Tutto a posto Tutto a posto Io vi ho dovuto a questi Però a questi Non si scherzi No? Da qui Sono venuti fuori Una serie di eventi Di natura criminale In particolar modo estorsioni Cessioni del credito Questo è avvenuto Grazie alla frequentazione Da parte del figlio Di Angelo Moccia Della Roma Bene Degli locali Della Roma Bene Ah Marco ma che pressione di un giorno o due Stiamo a fare questo da tre anni A me mi servono i soldi eh E di raccimolare qualcosa Altrimenti se ne c'è una casa La Roma Romano penso di me In Roma è Roma Roma è fuck Roma è fuck Il profilo dei debitori De Moccia È quello di soggetti Legati al mondo Dell'imprenditoria Dello spettacolo Venuti a contatto con loro Determinati locali Nessuna delle vittime del clan Si è recata presso i nostri uffici Per denunciare Pagavano senza battere il ciglio I Moccia a Roma Vivono in quartieri esclusivi E frequentano la borghesia che conta Il contesto congeniale Secondo l'accusa Per un moderno clan di Camorra Che ha bisogno di riciclare i soldi Nell'imprenditoria deviata La distrettuale antimafia gli sta con il fiato sul collo Segue i movimenti dei fratelli Moccia E i loro investimenti Così nel 2021 colpisce ancora Le mani delle mafie sul petrolio In carcere il camorrista Antonio Moccia Come hanno fatto i Moccia A mettere le mani sul petrolio You are the one, Anna Betts! L'accusa di Contrione Bettozzi È quella di avere favorito il clan Moccia Siamo stati sempre al centro di croniche giudiziarie Molte volte giustamente Alcune volte ingiustamente La parabola criminale dei Moccia Non ha eguali Ignorata, potente E che attraversa ogni stagione Dal sangue all'imprenditoria Una storia che inizia da fragola Il loro territorio di origine E che arriva fino alla capitale Dove i Moccia avrebbero riciclato denaro nei ristoranti E prestato soldi Alla borghesia romana Questi soldi, tanti soldi Sono la vera forza del clan E anche la chiave di accesso Per capire come hanno fatto i Moccia A mettere le mani ovunque Perfino in un settore gigantesco e sofisticato Il petrolio Le mani delle mafie sul petrolio 71 arresti tra Calabria, Campania e Lazio Centrale nel ruolo del clan Moccia L'indagine più recente L'indagine più recente si chiama petrolmafie E travolge il più giovane dei fratelli Moccia In carcere il commercialista Alberto Coppola Ed Antonio Moccia Lui che già a 14 anni aveva commesso un omicidio Antonio Moccia, classe 64 Ha scontato quattro anni di carcere per mafia Nel 2021 è stato arrestato per autoriciclaggio e associazione mafiosa E' ancora sotto processo E' stato l'enfant prodigio del crimine A soli 14 anni è entrato nel tribunale di Napoli armato E ha ucciso Antonio Giuliani Il rivale di suo padre E' autore dei manifesti anti-racket di Afragola Quelli contro le bombe e il pizzo Un'antimafia di facciata secondo gli inquirenti Che lo considerano ancora uno dei capi del clan Nell'indagine petrolmafia del 2021 Antonio Moccia è accusato di aver riciclato denaro Nella società petrolifera di un'insospettabile imprenditrice Anna Bettozzi Fascino, dinamismo inesauribile Energia, una donna di grande talento Che non ha paura delle sfide You are the one, Anna Betz! Io difendo Anna Bettozzi da alcuni mesi L'avevo conosciuta qualche settimana prima del suo arresto E aveva rappresentato In preoccupazione ci fossero delle indagini Che riguardavano la società Medpetrol Di cui aveva la proprietà, la Bettozzi E poi c'è stato questo arresto In carcere anche l'ereditiera Anna Bettozzi Per il PM era in affari con la camorra Secondo gli inquirenti la donna avrebbe ricevuto ingenti somme di denaro Dal clan Moccia per risollevare la sua impresa in crisi La contestazione che facevano a Bettozzi E' di essere a capo di un'associazione criminale Che aveva come finalità Attraverso imprese nel settore della distribuzione dei carburanti Di raggirare lo Stato Evadere le tasse Ma accusa più grave di averlo fatto Per avvantaggiare economicamente il clan Moccia L'indagine ha messo in luce gli interessi della criminalità organizzata Nello specifico settore del commercio di prodotti petroliferi Evidenziando come questo settore si presti a fenomeni di riciclaggio di denaro sporco Mediante i meccanismi di frode all'IVA e alle accise Che sono tipici di questo settore anche Le nostre investigazioni hanno permesso di ricostruire La frode perpetrata dal sodalizio criminale Per un'imposta evasa pari a oltre 180 milioni di euro Nonché violazioni in materia di accise per circa 12 milioni di euro Anna Bettozzi è una donna di carattere Con una storia lunga di vario genere Perché lei è stata imprenditrice Soprattutto come immobiliarista Sposata poi con il petroliere Sergio di Cesare Nel frattempo lei faceva anche la cantante Ha inciso dei dischi Ha fatto tournei in Italia all'estero E poi succede che deve in qualche modo improvvisarsi Diciamo così alla guida del gruppo del marito Appunto del petroliere Perché Sergio di Cesare improvvisamente si ammala E dopo una lunga malattia muore Ed è proprio in questo periodo che la Bettozzi Conosce Alberto Coppola Altro imprenditore importante Nel settore del commercio dei prodotti petroliferi Nonché parente di Antonio Moccia Alberto Coppola Imprenditore petrolifero Cugino di Antonio Moccia Coinvolto in petrol mafia Con l'accusa di aver favorito gli interessi del clan Moccia Anna Bettozzi non sapeva nulla Né della storia di Coppola Né di Moccia Si rende conto che c'è questa parentela con Moccia E che questo Moccia vuole venirla ad incontrare Perché Coppola nel frattempo sul suo versante Cerca di accreditarsi anche agli occhi del cugino E dirgli beh qua abbiamo una società Una bella società Sulla quale io sto mettendo le mani Vieni pure tu e ce ne impossessiamo Questo è un po' il senso della cosa Coppola subentra nella gestione della Max Petrol Italia SRL Al fianco di Anna Bettozzi In un lasso di tempo relativamente breve Quindi tre anni Il volume d'affari della Max Petrol Italia SRL Passa da circa 9 milioni di euro A ben quasi 360 milioni di euro L'accusa sostiene che questa moltiplicazione Dei ricavi avviene proprio perché C'è Coppola, c'è il clan Moccia E quindi diventa la società della Camorra Su cui la Camorra investe perché la Camorra ricava Ma non c'è nessuna traccia di ricavi della Camorra Sulla Mette Petro Secondo l'accusa Anna Bettozzi avrebbe utilizzato i soldi del clan Moccia con consapevolezza Le contestano infatti una intercettazione dove Bettozzi parlando con la sorella le dice Io dietro c'ho la Camorra 15 milioni al giorno Quell'altro 5 milioni Io ho altri 5 E insieme ci abbiamo 15, 10, 25, 30 milioni al giorno Tu dove cazzo vai? Tu la legge ti danno l'associazione C'ho dietro la Camorra C'ho dietro la Camorra Dietro che mi insegue Cioè lei dissuade la sorella per dire Guarda io c'ho già la Camorra addosso Questo è il senso c'ho la Camorra dietro C'ho la Camorra addosso Meglio che eviti di entrare in questo settore Perché è un settore difficile, pericoloso e rischioso Sempre durante queste conversazioni telefoniche Emerge anche la preoccupazione della Bettozzi Per i reati verso i quali poteva incorrere nel continuare a lavorare con determinati soggetti La Bettozzi si mette a paura C'è una bombacarta a scopo dimostrativo Che esplode dire il cancello di una abitazione privata di uno dei figli della Bettozzi Fermo restando che non si può attribuire naturalmente a nessuno la responsabilità di cui fatti Perché sono dei fatti contro i gnoti La mia esperienza, non solo quella di avvocato di oggi Ma soprattutto quella di PM antimafia di ieri Mi dice che queste sono le tipiche condotte degli ambienti Di tipo mafioso, camorristico Allora siamo certi che Anna Bettozzi Sia questo mostro criminale che è stato descritto Che non sia invece una vittima che non ha saputo a un certo punto Non ha avuto il coraggio di denunciare quello che stava accadendo Sarà il Tribunale di Roma in un processo che è iniziato solo a marzo del 2022 A fare chiarezza sul filone dell'indagine Petrol Mafia Che coinvolge Anna Bettozzi, Alberto Coppola e Antonio Moccia Ma come vi abbiamo raccontato all'inizio del nostro viaggio È nelle risposte che arriveranno da un altro tribunale Quello di Napoli che la famiglia Moccia tiene il fiato sospeso A Napoli infatti i fratelli Moccia attendono due verdetti fondamentali Uno riguarda Antonio Moccia Unico imputato di Camorra in un processo che dura da oltre 10 anni L'altro coinvolge Teresa e Luigi Moccia Accusati di essere a capo del clan che porta il loro cognome Un processo che stabilirà forse una volta per tutte Se i Moccia sono perseguitati dalla legge O sono ancora oggi un clan di Camorra Il più ambiguo e astuto che l'Italia abbia mai conosciuto Il processo è in essere Attualmente sto fuori per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva E non ritengo di parlare di questi processi E di questa attualità proprio per un rispetto anche alla Corte Perché mi ritengo non innocente, ma estraneo proprio ai fatti Per quella che è la volontà e l'attenzione Riposta dalla Direzione Distrittuale Antimafia Partenopea Il focus investigativo non è mai stato spento E' sempre attivo E' anche sintomatico quanto emerso La sentenza della Corte d'Assise di Salenti al 2000 La quale stabiliva l'esistenza di questo clan Moccia Diretto e promosso dalla famiglia nucleare Ne stabiliva l'operatività E' stato riconosciuto come una delle massime espressioni criminali campane Diciamo noi siamo stati malavitosi Io e i miei fratelli non è che non lo siamo stati Ma lo siamo stati non per fini economici Questo lo posso giurare sulla mia vita Che se non fosse morto mio padre nelle condizioni in cui è morto Nel modo più assoluto si sarebbe parlato oggi del clan Moccia Perché non sarebbe mai esistito E' un clan che a mio avviso credo che non morirà mai Anche nell'immaginario delle persone Proprio per come poi ha portato una sorta di mentalità malavitosa Che è un livello molto alto I Moccia non sono dei criminali comuni Sono dei criminali di una straordinaria intelligenza Sempre ai margini fra impresa legale e impresa camorristica L'indagine sulle loro attività è sempre stata un'indagine difficilissima Un'indagine su un terreno strucciolevole del borderline Non c'è questa mentalità in Italia che si può credere a delle persone che Pur se hanno fatto un percorso di vita in un certo modo poi cambiano Io so che è possibile perché è successo a me E' un clan che sta subendo in modo pesante l'azione della magistratura dello Stav Ma non è assolutamente un clan del passato Anche perché quello è un brand che è diventato, ha saputo fare impresa Abbandonare una parte della strategia tanguinaria per una più silenziosa Più pagata e più raffinata ma molto più pericolosa A volte mi fanno la domanda che se avesse deciso di fare il collaboratore di giustizia Forse avrei risolto tutti i problemi al mondo Io non penso che sarebbe stato meglio né per me e nemmeno per i miei figli Non per un fatto di omertà, le leggi della malavita o quant'altro No, tutt'altro Perché il pentimento secondo me si deve vivere nella propria coscienza Uno, ma questo anche per insegnare ai miei figli che ci sbaglia paga E' giusto che paghi e la finiscerà Si vorrà dire che se la corte riterrà di condannarmi Faccio come quello che cammina sulle strisce pedonali e viene investito Non se la piglia con il mondo Ma cerca di curarsi le proprie ferite e cercare un domani migliore No, io non ho visto che ci sbagliare Non si la piglia con il mondo Autore dei sorrisi Autore dei sorrisi